Ciao a tutti, benvenuti, nuovo video della serie affitti brevi in 30 giorni, oggi parleremo del lavoro da dipendente, dal lavoro da imprenditore coniugato all'attività di affitti brevi. È indispensabile lasciare il proprio lavoro? Assolutamente no, vi do questo spoiler, è possibile svolgere l'attività di affitti brevi in concomitanza col vostro lavoro da dipendente o col vostro lavoro da imprenditore? Ve lo posso dire con assoluta certezza perché io stesso porto avanti altre aziende nel mentre che gestisco oltre 100 immobili e ve lo dico anche perché tra i nostri oltre 4.000 studenti abbiamo tantissime persone che svolgono altre attività nel mentre che fanno affitti brevi. Bando alle cianci iniziamo con questo fantastico video. Partiamo da un presupposto, le persone che accedono a B&B Academy, che vi ricordo essere la community di affitti brevi legata alla formazione più grande d'Europa con oltre 4.000 studenti da tutto il mondo, tantissimi di coloro che accedono a B&B Academy hanno il desiderio di inizialmente lasciare il proprio lavoro. Devo essere onesto con voi, la maggior parte delle persone accedono a B&B Academy perché sono stufe del loro lavoro, ma ci sono anche tante persone che al contrario sono estremamente soddisfatte del loro lavoro, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista etico, personale. Abbiamo tanti professionisti, chirurghi, ingegneri, persone anche molto famose nel loro settore, anche sportivi, importanti a livello calcistico, pallacanestro, arti marziali mista, ad esempio Stefano Paternò, è molto famoso per essere uno degli studenti B&B Academy più celebri dal punto di vista sportivo e nonostante ciò hanno avuto il piacere di intraprendere questo percorso e di affiancare questo business al loro lavoro principale, alla loro attività principale. Perché parlo di affiancamento? Perché è un business che permette, quello degli affitti brevi, di avere grandi soddisfazioni economiche, se fatto in maniera professionale, seguendo il nostro metodo, ma anche di farlo, come dire, senza dover necessariamente investirci tante ore ogni giorno. Quindi è possibile guadagnare bene automatizzando gran parte dei processi e di conseguenza avendo una rendita passiva o semipassiva. Quindi se ad esempio tu che stai guardando questo video vorresti accedere al mondo degli affetti brevi, vorresti accedere a B&B Academy e hai un lavoro da dipendente, non ti devi preoccupare perché non è un grosso limite, piuttosto che hai già un'attività imprenditoriale, meglio ancora in realtà, perché puoi tranquillamente talvolta anche utilizzare la partita IVA che già possiedi anche per il business degli affitti brevi. Benché in realtà è un business che si può fare in maniera 100% legale anche senza partita IVA. Se non sai di che cosa stiamo parlando, qua sul canale trovi tantissimi video sul tema. Ma proseguiamo. Un altro degli innumerevoli vantaggi di poter iniziare un business senza doverci dedicare anima e cuore dalla mattina alla sera è quello di poter testare se questa cosa fa il caso vostro. Vi spiego meglio. Può essere che siate già molto soddisfatti del vostro lavoro e la vostra situazione economica vi appaghi già così com'è, ma avete quella curiosità di voler provare a fare questo business anche solo per aumentare il vostro reddito mensile. Beh, potete farlo, non dovete per forza mollare tutto e dedicarvici anima e cuore, potete nel mentre che fate appunto la vostra attività anche solo testare e vedere come va o semplicemente vi accontentate di 1000 euro al mese extra, acquisite una o due case ed ecco che avete i vostri 1000 barra 1500 euro al mese extra con una o due case. Dopodiché è successo tantissime volte che le persone si avvicinassero a questo business quasi per gioco, tanto per provare, per avere una famosa rendita extra, se ne sono innamorate e hanno lasciato il loro lavoro. E' il caso ad esempio del nostro celebre studente Matteo che abbiamo intervistato forse anche due o tre volte addirittura negli anni, che era un ricercatore di sicurezza informatico, si è dedicato agli affitti brevi e oggi vive di questo e ha un portfoglio incredibile che vale secondo me più di un milione di euro. Piuttosto che tantissime altre testimonianze, vi lascio qui gli screenshot di persone che comunque avevano altre situazioni lavorative e grazie al business degli affitti brevi hanno migliorato la loro vita, hanno lasciato il lavoro che non gli piaceva fare eccetera eccetera eccetera. Abbiamo veramente tantissime storie di successo e la maggior parte di queste sono entrate in questo business per cambiare la loro situazione economica e lavorativa. Ma facciamo un piccolo riassunto, se vuoi lavorare in forma non imprenditoriale, quindi senza partita IVA, puoi farlo sino a 4 immobili in maniera 100% legale senza limiti di incassi, quindi tu puoi avere il tuo lavoro da dipendente qualunque esso sia, anche se lavori negli organi di stato che diciamo normalmente non possono avere altri business, in forma non imprenditoriale puoi farlo, perché si tratta di un reddito da allocazione, quindi qualunque sia il tuo lavoro tu puoi guadagnare, anche se fai il poliziotto, se fai il pompiere, puoi guadagnare in maniera 100% legale dal business degli affitti brevi sino a 4 case. Fossero anche 4 ville incredibili sino a 4 immobili tu puoi farlo. Dall'altra parte invece se vuoi operare in forma imprenditoriale hai bisogno di una partita IVA che può essere forfettaria o ordinaria dove si pagano molte poche tasse, ma come dicevamo questo business ha il grandissimo vantaggio di poterlo iniziare e anche continuare potenzialmente per sempre in forma non imprenditoriale. Se poi hai la partita IVA e hai anche un lavoro da dipendente o hai un lavoro da dipendente e vuoi aprirti una partita IVA dedicata hai anche il grandissimo vantaggio di non dover ad esempio versare nuovamente i contributi IMS perché questi vengono già versati dal tuo lavoro da dipendente quindi hai un incasso ancora maggiore. Infatti molte persone sfruttano proprio questo vantaggio per dire mi metto in tasca dei soldi extra non devo neanche pagarci poi così tante tasse perché ho delle forti agevolazioni. Quindi per riassumere abbiamo visto che se fai il dipendente puoi guadagnare con gli affitti brevi, se sei disoccupato puoi guadagnare con gli affitti brevi. Se sei un imprenditore o un libero professionista puoi guadagnare con gli affitti brevi. In parole povere questo è l'unico business dove non hai nessun tipo di limite ai guadagni che puoi generare e alle forme con le quali puoi generare i guadagni. Perché ad esempio se tu volessi aprire un business di e-commerce devi obbligatoriamente avere la partita IVA e di conseguenza non solo hai dei costi da sostenere per aprire la partita IVA ma alcune professioni come dicevamo prima soprattutto dipendenti statali, forze dell'ordine eccetera non possono aprire la partita IVA. Quindi se ad esempio fossi un poliziotto non potresti fare un business di e-commerce ma puoi fare un business di affitti brevi. Questo è un vantaggio enorme e questa era diciamo una spiegazione molto riassunta di un tema che dentro B&B Academy viene trattato con decine e decine di lezioni tenute tra l'altro tra le varie cose da Massimiliano Allievi e Riccardo Allievi dello Studio Allievi che è il canale social numero uno in Italia per tutto quello che riguarda la fiscalità. Canale social ovviamente è anche studio di commercialisti con migliaia di clienti, rappresentano tra l'altro alcune delle personalità digitali più importanti in Italia, influencer, cantanti, tiktoker eccetera 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 e soprattutto tanti imprenditori ed ecco perché abbiamo scelto di collaborare insieme a loro e questi professionisti non solo li potrete trovare con dei video sul nostro canale YouTube ma con lezioni vere e proprie della durata di ore e ore e ore all'interno di B&B Academy. A tal proposito se vuoi saperne di più su questo fantastico business ho due regali per te che trovi direttamente qua in descrizione. Il primo un ebook che ti insegna come partire da zero e avere successo nel mondo degli affitti brevi e il secondo regalo è una consulenza con il mio team che ti può aiutare a capire se nella tua zona c'è effettivamente richiesta per questo business e soprattutto se è un business che fa il caso tuo. Trovi tutto qua in descrizione. Spero che il video ti sia piaciuto, metti un bel mi piace, iscriviti al canale e per la serie affitti brevi in 30 giorni con questo video abbiamo terminato. Ci vediamo nel prossimo. Ciao!